Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! 4 sono già morti, exidero calma, 5 morti Non ci voglio credere PORGO DIO Unlucky Non sono così forti in questo livello Vabbè dai non fa niente, non fa niente vero, non fa niente L'aveva fatto perfetto, è cascato uno dopo due secondi Regà io... È triste Sono triste Perché è triste, perché è triste C'è Marco, ma tu anziché fammi il sub a metà, fai il sub a minimi in terra Merda C'è ma puoi far sub a minimi interpe, venimmo a spammare mele e muta Vai Marzo, tagli, tagli a me Sì no, ma devo capire la risposta, perché se magari l'ha tutto regalato ci posso stare, se no è ferma ban È ferma ban Dov'è? Dov'è? Io non ci credo che è successo questa cosa Ho fatto il record del mondo riga Bravo Marzo Io non mi qualifico ragazzi, eh, ve lo dico È successa una cosa che non è mai successa mai No ragazzi, che gioco... no, però porca madonna, porca madonna, porca madonna, porca madonna, si No ragazzi, che è successo, che è successo? Sono qualificato Oddio Oddio Porca madonna Ma siamo venuti in posto No no Capotti, già l'hai fatta la fincia, ma? No, vabbè Stavo all'inizio No, ma siamo sempre tre Ma lui recupera cose Ma come uno spirito? Scusi un attimo se non è uno spirito che sto prendendo dell'argento Oh, guarda che roba Ma come R Sei morto Merda Molto perspicace e incauti Fate attenzione quando accendete quei bracieli Cedere e il Walker sono attratti da queste fiamme come fa lei Noi dobbiamo ringraziare Scusi, ho detto che non mi devi parlare Let's go Eeeeeeasy! È sopra azzurano Geronte Il bossa! Il bossa! Merda Non succederà mai più quello che è stato visto Mamma mia! Mamma mia Sì, ma... Cioè, secondo me comunque c'era molto più se... Mancava tanto così, raga Mancava tanto così, raga Coraggio Atreus Merda Concentrati e cerca un punto debole Merda Perfetto 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 No, no, no No, 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 no No, no, no Cristo, no Eh qua ce la sono giocata L'uscita... l'uscita dal bush con il cromo è stata troppo pericolosa ma cosa puoi fare sempre nella nella cosa nella visuale dovete però ragazzi che come l'ha gufata e prego marzo così di cinque brani cambia la storia ciao gabriel ovviamente continuiamo a lavorare però c'è tanta roba ancora da fare tanta easy noi martelliamo tanto zombie stupido corri in avanti e basta lo metti su un tapirulana e li fermo allora oh cristo ragazzi non riesco ad entrare nel cannone vabbè non entrava nel cannone merda è la mia vita la musica anthony no io non posso essere morto ma che cazzo fa col pazzo vai 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 non lo so fuori di testa no non è per le parolacce su tiktok puoi dire quel cazzo che vuoi sì no lo so lo so è uguale merda abbiamo la win abbiamo sul pronostico sì per qualche strano motivo ti viene il reboot muori che cazzo fai c'è quello là che non mi piaceva mi curo mi curo però non mi piaceva per un cazzo ma dov'è che sono quelli che si stanno sparando guardalo lì guardalo lì chiata ammazzo va da fanculo tutti e due dai e se per caso ho sporcato qualcuno con un pezzo di cervello di quello di prima chiedo scusa ancora passi momento un momento fai a fare in culo te il su e giù coglione fuori dalle palle curati 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 io non ci credo no ragazzi no ragazzi no ragazzi parco diavolo ti accri infame dia caro no terre no aten No, grazie Pippo per i sette. No, raga. Questo si è preso. Una cecchinata in body. Ha saltato. Si è preso un'altra cecchinata. Sono morto io di headshot. No, vabbè, raga. Dai, però, Pippo. Buongiorno. Ciao, benvenuti alla live mattutina dedicata a Fort Night. Come la va, ragazzi? Come la va? Ci siamo anche oggi, martedì 27 settembre. Una giornata abbastanza tranquilla per quello che riguarda i... Dovevo portare a casa due soldi. Sai che ci fanno quei soldi di Restorables? Ci andiamo a Firenze. Ci andiamo a puttane, ci andiamo. Let's go! Puttane, è partita! Sì, è partita! Dai, grazie. Andiamo. Concentrati, ragazzi. Sì, ma ormai sono le puttane in testa. No, no, no. Ragazzi, allora, io lo sapete, io so...